Le previsioni del tempo per martedì 11 aprile. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone interne. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi nelle zone interne ed occasionali sulla costa. Temperature stazionarie, venti di brezza leggera sud orientali lungo la costa e sud occidentali nelle zone interne. Mare quasi calmo. Grazie a tutti.